Calo drastico del prezzo del greggio e i lavoratori del petrolio in crisi tra le denunce fatte dagli addetti ai lavori e anche quella del fango gettato sul caso Ombrina, che ha visto una lunga campagna contro le piattaforme petrolifere alle quale anche la Bruzza ha partecipato e per questo domani è stata annunciata una manifestazione di sensibilizzazione a Pescara alla quale parteciperanno anche i sindacati. Era una crisi annunciata dovuta sia in parte al prezzo del petrolio che sta scendendo ma anche al fatto che si è creata un'onda polemica sulle piattaforme petrolifere che, ripetiamo, non sono una sorpresa ma una novità per l'Abruzzo, sono realtà che esistono in Abruzzo da molto tempo e che comunque questa onda mediatica negativa sicuramente porterà una crisi ulteriore in un settore già vessato da un prezzo del prodotto molto basso. A rischio ci sarebbero 200 posti di lavoro ma il timore è che possano crescere molto di più, tre finora sono le società che hanno aperto le pratiche di mobilità. Si sta demonizzando un'attività che è necessaria per lo sviluppo dell'Italia, noi dipendiamo dal petrolio ancora, dipenderemo ancora per molto tempo dal petrolio quindi si trattava di trovare il modo di avere un petrolio di casa a un costo sostenibile e a un impatto ambientale sostenibile. Abbiamo rinunciato a questa opportunità. Quella di domani sarà una manifestazione che vuole puntare a cosa? Innanzitutto a sensibilizzare l'estate intellettuale di quelli che vogliono affrontare il problema del petrolio in Abruzzo con un occhio all'ambiente e un occhio allo sviluppo e non con un occhio al bacino elettorale soltanto.